Cantieri aperti per oltre 2 milioni e mezzo di euro nelle scuole di Lucca da chiudere entro l'estate. Otto sono già in corso su altrettanti istituti e altri otto partiranno nelle prossime settimane. Il piano degli interventi è stato illustrato a Palazzo Orsetti dal sindaco Mario Pardini e dall'assessora all'edilizia scolastica Simona Testaferrata. Tra i cantieri più rilevanti già in corso, quelli dell'asilo nido e il Pulcino di San Vito, dove si stanno realizzando servizi igienici accessibili e opere per la climatizzazione degli ambienti. Alla primaria Dante Alighieri e alla scuola d'infanzia al Girasole si sta installando un ascensore che consentirà di raggiungere tutti i piani. Alla scuola d'infanzia al Giardino e alla primaria Pascoli si completa l'intervento di messa in sicurezza iniziato due anni fa. Costo complessivo 500 mila euro. Manutenzione straordinaria per la scuola primaria e dell'infanzia Giusti di Sant'Anna, con la sostituzione di pavimentazioni interne danneggiate 180 mila euro. Alle scuole Chelini di San Vito la riqualificazione delle due palestre per un costo di 147 mila euro. Alla primaria di San Pietro a Vico sono invece iniziati i lavori per la costruzione di un parcheggio a servizio della scuola e la sistemazione di un'area verde adiacente. Alla primaria Collodi si stanno realizzando nuovi servizi igienici accessibili per un costo complessivo di 12.300 euro. Tra i cantieri che partiranno nelle prossime settimane, quelli dell'asilo nido Chiricù della Cappella Bassa, dove verrà sostituito il generatore di calore e verrà realizzato un nuovo impianto di climatizzazione. Siamo molto contenti di aver iniziato quest'estate con dei lavori importanti in tantissime scuole. Questo perché il terzo educatore, lo sappiamo, è l'ambiente. Quindi cerchiamo ogni anno di rendere le scuole sempre più accoglienti, inclusive e con spazi che si possono sfruttare sia dal punto di vista esterno che naturalmente interno.